Ciao ragazzi, ben ritrovati al nostro video Whatsapp settimanale. Oggi apriamo con quella che è certamente la notizia più importante della settimana che riguarda l'annuncio della conferenza di Bethesda che si terrà in occasione del prossimo E3. È la prima volta che Bethesda organizza una conferenza in occasione di questo importante appuntamento. Di solito le conferenze sono a pannaggio di Sony, Microsoft, Nintendo, alle volte Activision, Electronic Arts sempre. Però questa volta tra i player più importanti ci sarà anche Bethesda. Quindi ci aspettiamo davvero grandi cose. I nomi sulla bocca di tutti ovviamente sono due. Uno è Fallout e l'altro è The Elder Scrolls. Quindi ci possiamo attendere qualche novità o dell'uno o dell'altro franchise o perché no di entrambi. Quindi incrociamo le dita, appuntamento a giugno con la conferenza di Bethesda alle 3. Questa è stata anche la settimana del lancio del New Nintendo 3DS, la nuova console portatile di casa Nintendo disponibile nelle due versioni standard extra large e con i vari bundle dedicati a Zelda Majora's Mask e al nuovo Monster Hunter 4 Ultimate. Al momento non si sanno i dati di vendita di questa console, però diciamo l'aria che tira è che sia stata ben recepita dal pubblico. Quindi attendiamo i primi dati di vendita. In ogni caso in questa settimana Nintendo ha anche fatto le sue previsioni per l'anno in corso perché pare che anche il 2014 non sia andato come si attendevano. Wii U continua ad arrancare in quanto a vendite, ma quest'anno usciranno dei giochi molto importanti. Quindi Satori Wata ha detto chiaramente ai suoi investitori che quest'anno ci si aspetta una grandissima crescita. Pertanto dita incrociate per Nintendo. Non crediamo francamente che al prossimo E3 annunceranno una nuova console, come si sente dire in giro. Crediamo che insisteranno su Nintendo Wii U. In ogni caso i giochi che arriveranno nei prossimi mesi e nel corso del 2015 sono davvero molto incoraggianti. Restiamo in tema a Nintendo per parlare di un rumor, un rumor che è emerso negli scorsi giorni e che vede Netflix all'opera per produrre una serie televisiva live action dedicata a The Legend of Zelda. Quindi parliamo di una serie televisiva con attori in carne ed ossa che avrebbe addirittura una storia e un'ambientazione simile a quella di Game of Thrones. Insomma, la notizia ci sembra un po' esagerata, però potrebbe essere possibile che si stia effettivamente pensando a una produzione di questo tipo. Speriamo soltanto che non ottenga gli stessi risultati della serie animata di The Legend of Zelda che era veramente molto molto brutta. Speriamo che arrivino notizie in futuro, speriamo che arrivino notizie buone. In ogni caso i fan sono un po' titubanti. Vedremo che cosa sforneranno quelli di Netflix che comunque hanno sempre fatto delle buone produzioni. Anche in questo caso teniamo le dita incrociate. Chiudiamo con una notizia che riguarda Peter Molinò, lo sviluppatore di titoli come Black & White e Fable di recente al lavoro su Godus che pare abbia sospeso lo sviluppo di questo gioco lasciando a bocca asciutta centinaia di fan che si aspettavano degli importanti aggiornamenti e soprattutto centinaia di persone che avevano già investito dei soldi in questo progetto attraverso la campagna Kickstarter. Insomma, Peter Molinò come spesso è accaduto nella sua storia di sviluppatore non è in grado di mantenere le promesse. Quindi tutto quello che è stato annunciato in fase di finanziamento del progetto non verrà realizzato, ne è stata realizzata soltanto una parte. Ad aggiungersi alle figuracce c'è il fatto che in Godus ci sarebbe stato una sorta di re del videogioco che avrebbe addirittura ottenuto delle royalties sul gioco, quindi una percentuale sulle vendite. Un ragazzo di nome Brian che aveva vinto un contest all'interno del precedente gioco di Molinò Discovery. Insomma, questo ragazzo dopo mesi di scambi di mail con Peter Molinò non riceverà una lira. Quindi di conseguenza si è abbastanza arrabbiato, è rimasto piuttosto deluso e diciamo per tirarlo su di morale quei gran furbacchioni di Devolver Digital hanno deciso di inserire il suo personaggio all'interno del videogioco Nota Hero. Quindi in Nota Hero potete giocare nel ruolo di Brian, questo sfortunato ragazzo che ha vinto il contest con Molinò. A parte questo bisogna dire che Molinò ha ricevuto delle minacce di morte. Questo certamente non è nulla di positivo, insomma va bene arrabbiarsi ma minacciarlo di morte non è proprio il caso. Quindi che cosa è accaduto? Beh, Molinò ha deciso che non rilascerà mai più dichiarazioni alla stampa. Pertanto ci possiamo attendere in futuro un po' di silenzio da parte di questo sviluppatore e forse questa non è una cosa negativa. Bene, ho concluso anche questa settimana l'appuntamento con un nuovo Whatsapp come sempre per sabato prossimo.